CTA, Consorzio Torinese Autoservizi, è dal 1995 il sinonimo a Torino in aeroporto per chi vuole richiedere un'auto di rappresentanza, per un viaggio di lavoro, d'affari o soltanto per un transfer in aeroporto. Con la nostra Consorzio si possono ottenere servizi non solo con le auto ma con i minibus, con i minivan, fino agli autobus grandi, da 50 posti, tutti dotati di tutti i comfort per tutti quelli che vogliono viaggiare con noi. Benvenuti a Bordo è il nostro slogan, siamo in grado di essere un partner efficace ed efficiente con tutte le aziende e le agenzie che debbano organizzare il loro meeting, il loro incontro d'affari o semplicemente venire in Piemonte per l'enodastronomia o per le stupende bellezze che abbiamo in tutta la regione. Grazie a tutti!